Rocca Gloriosa abbiamo appena ricevuto una bella notizia. Piante e fiori veltri sarà il fiorisso ufficiale di Casa Sanremo. Con noi c'è anche il sindaco di Rocca Gloriosa, Nicola Marotta, che vuole fare un commento su questa notizia. Io auguro innanzitutto un buon Sanremo a tutti. E poi vorrei ogni giorno sentire queste belle notizie, che sono notizie che danno orgoglio al nostro territorio. In modo particolare un'azienda, un imprenditore, dei giovani imprenditori di Rocca Gloriosa, ci danno il senso di come si possa fare impresa anche in un territorio difficile. In un territorio difficile perché parliamo del sud, parliamo di Rocca Gloriosa, un comune come tanti comuni della provincia di Salerno che vede la popolazione invecchiare e spopolare i propri territori. Fare impresa in un territorio del genere è difficile, per cui io dico grazie a questi ragazzi. Però stiamogli vicino. Stiamogli vicino significa anche dare delle agevolazioni. Per quanto riguarda il nostro comune ha attuato una politica di riduzione dei costi per le imprese sul territorio attraverso una riduzione del ruolo dell'Atari. Ma questo non basta perché se siamo in un parco nazionale che protegge, ma non solo il territorio, protegge il territorio nazionale perché il parco dà ossigeno, dà aria buona in un contesto nazionale, è anche giusto che chi vive in questo territorio e fa impresa in questo territorio dovrebbe avere una tassazione agevolata. Ma una tassazione agevolata non significa avere dei finanziamenti to cure o a fondo perduto. Significa semplicemente mettere sullo stesso piano e in modo competitivo chi fa imprese in questo territorio rispetto a quello che invece lo fa in un altro territorio che non ha i vincoli che invece ha chi vive in questa nostra comunità. Per cui io sono orgoglioso due volte perché Piante e Fiore e Veltre ha partecipato a una selezione nazionale che ha visto questa azienda insieme ad altre aziende nazionali partecipare a una manifestazione nazionale sui primi venticinque in Italia è veramente un momento di orgoglio. Io auguro tutto il bene a questa impresa così come mi auguro che di queste cose noi ne parliamo anche nei giorni che seguiranno. Grazie. Daniele, tu insieme ad Antonella sei il proprietario di Piante e Fiori Veltre. Vuoi fare un commento su questa notizia? Eh nulla, noi siamo semplicemente soddisfatti per questo successo perché andare già a Sanremo a fare il bouquet festival di Sanremo era già un qualcosa di importante e comunque creare qualcosa di bello per le nostre zone. Dopo rientrati da casa Sanremo, cioè rientrati da Sanremo, ci viene la chiamata dall'organizzazione di casa Sanremo in cui piacevano i nostri lavori e ci hanno voluto fortemente che comunque andavamo a dobbare casa Sanremo da giorno 4 a giorno 11. Quindi avremo comunque una visibilità come Cilento, come azienda importante. Quindi ringrazio tutti veramente fino ad oggi per essere stati comunque vicino a noi. Cosa porterete del Cilento a Sanremo? Ecco, questo è un qualcosa che non diremo, però l'unica cosa che vi possiamo dire è che ci sarà tanto Cilento nei fiori che porteremo. So che avevi in servo anche un omaggio per oggi. Sì, in realtà abbiamo portato il bouquet che è piaciuto tanto ai giudici di Sanremo, del bouquet festival di Sanremo. E quindi c'è Antonella ora che lo consegnerà comunque a Speranza Gerunto. Grazie. Che è il presidente del consiglio. Il consiglio di Rocca Gloriosa. Speranza, vuoi fare un commento? Voglio ringraziare Daniele e Antonella per l'omaggio floreale. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per l'esperienza che andranno a vivere. Per noi tutti è un motivo di orgoglio perché insieme a loro, oltre a portare come Cilento i fiori, che ci diceva Daniele, sicuramente porterà Rocca Gloriosa. Quindi per noi questo è un motivo di orgoglio. Li ringrazio. Grazie. In bocca al lupo anche dalla redazione di Trekking TV. Grazie. 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 Grazie a tutti